In che modo il governo intende muoversi sul fronte delle criptovalute, considerate anche le recenti innovazioni che sono state annunciate da Facebook che introdurrebbe la propria criptovaluta che si chiama Libra? Questo è un tema enorme che riguarda tutto il mondo, tutti gli stati del mondo, Facebook lanciando questa criptovalute che poi è uno stablecoin collegato a titoli di Stato, a valute nazionali, entra in questo mondo in maniera molto forte e massiccia. Il governo sta analizzando la situazione, sta cercando di capire l'impatto reale che questo annuncio potrà avere su tutti noi. Ovviamente questi sono i grandi temi sui quali bisogna che l'Europa lavori in maniera compatta. È assolutamente fondamentale pensare che ci sono dei temi che sono strategici sui quali i vari stati devono cooperare e lavorare insieme. Questo è un altro di quei temi sui quali si può fornire una ipotetica soluzione alternativa, affiancata. Si può lavorare solo se tutti gli stati lavorano insieme per avere una massa critica importante. Stiamo studiando, come sapete abbiamo un gruppo di esperti, 30 esperti, abbiamo fatto il tavolo sulla blockchain. Questo è uno dei grandi temi, un tema nuovissimo sui quali continueremo a lavorare e analizzare per cercare di capire qual è la soluzione migliore.